Musica Sono fatica, siamo venuti un po' da lontano. E non è un caso, forse che noi siamo qui. Io evoco sempre i luoghi esoterici, che esistono forse al di là della dimensione umana. E forse non è un caso che siamo qui, dove un certo Guglielmo Pepe scatenò i primi moti che poi diedero vita alle grandi guerre anche risorgimentali, nel bene e nel male. E in un regno che fu forse uno dei primi esempi della modernità di ingegneria etnica, di distruzione, di un luogo delle ricchezze, delle conoscenze. Il regno delle due Sicilie era il più ricco regno d'Europa, che fu distrutto per mano militare dai Savoia, a servizio degli stessi di oggi, cioè quelli che sono poi gli anglofranco-prussiani, ai quali si sono aggiunti gli americani, cioè il dominio della menzogna, della menzogna costruita attraverso la distruzione etnica, la distruzione degli equilibri, la predazione economica, e la costruzione dell'altro da sé negativo, cioè il terrone, il ladruncolo napoletano, quando in verità nel regno delle due Sicilie se uno, i camorristi li chiamavano guappe cartone, che quando girava l'angolo e dava fastidio veniva impiccato, come il mafioso. Quindi, forse qui non a caso siamo qui e gli amici napoletani, non solo napoletani ci hanno invitato. E mi auguro che questo sia d'auspicio, perché noi abbiamo a che fare con un branco di criminali, questo è emerso ed emerge palesemente. Ora i criminali o si consegnano all'ergastolo o ai plutoni d'esecuzione. Speriamo che sia, come dire, la seconda parte, perché qui o prima o dopo il Redderazionem deve arrivare. Perché questo non lo diciamo noi, ma ce lo insegna la storia. Quindi adesso vedremo quale sarà il luogo delle vendette, no? Perché se l'Inps con freddezza dei numeri dichiara che ci sono 100.000 pensioni in meno pagate, quasi con entusiasmo, questo ci fa capire che cosa, come dire, criminalmente viene dichiarato da una classe politica non solo di ladri, ma a questo punto di imperterriti bugiardi, che hanno vietato le autopsie, hanno fatto tutto quello che sappiamo, che ci è stato raccontato, che, come dire, mai avremmo pensato, quando si fece il primo, appunto, convegno a Roma, mai avremmo pensato che ci saremmo poi ritrovati a parlare di questo, cioè a parlare di questi numeri, no? Che oggi, diciamo, nella follia de genere, diciamo, della, come dire, della non raccontato o della costruzione della falsa caverna di Platone, come la chiama Fusaro, dove i numeri non hanno più senso, non ha senso, la realtà è trasmutata, no? Cioè, parliamo di 150.000 morti come se nulla fosse. Quando, come dire, se questo fosse accaduto nella periodo della nostra adolescenza o di un'Italia diversa, si sarebbe fermato il mondo. Oggi, con un cinismo estremo, parliamo di 150.000, 160.000 morti, milioni di morti nel mondo e nessuno dice nulla, no? C'è questo potere della menzogna della trasmutazione del reale che lavora in maniera devastante. Quindi il gruppo, diciamo, informazione, scienza, tecnologia e ambiente è stato chiamato, in prima linea, no? Ad analizzare la dimensione trasmutante del reale. Perché l'atto criminale, cioè il criminale, il, come dire, truffatore selettivo che agisce con mente fredda, cioè costruisce la truffa labirintica, costruisce la menzogna ad hoc e determina attraverso, come Bellucci, peccato non ci sia, ci aveva all'inizio nel gruppo informazione, come dire, spiegato molto bene che questa costruzione dell'irrealtà che, vedete, ha costruito nel tempo come dire, la dinamica dell'odio dell'altro da sé. Mentre noi, nella nostra civiltà, e qui siamo in terra grecale, in terra, come dire, della Magna Grecia, della Romanità, poi abbiamo appreso che la nostra civiltà è una civiltà invece dell'accettazione dell'altro da sé, dei grandi trattati, delle grandi fusioni culturali, popoli del mare che sapevano navigare, trasmutarsi in altro. Ecco, invece oggi ci troviamo di fronte alla costruzione, attraverso la filmica, attraverso quello che viene trasmesso in televisione, noi ci troviamo di fronte ad una, come dire, dimensione altra, costruita, appunto attraverso la menzogna, attraverso la menzogna, attraverso la bugia, cioè quindi il potere, i grandi poteri, questo è stato già sottolineato in altri interventi, e, come dire, si è appropriato, De Leonibus ci parlava prima degli strumenti di guerra ulteriori, dove non basta il fucile, non basta il cannone, ma appunto viene utilizzata, come dire, la piattaforma mediatica, no? Quando non, quindi la propaganda. Io nasco come giornalista in un momento in cui il giornalismo era ancora una dimensione descrittiva, no? Dove, se non si era capace di descrivere, di trasmettere, no? e prima raccontavo, Montanelli era famoso per i suoi telegrammi, e scrisse ad un inviato in Medio Oriente, e scrivi solo banalità, se non sei capace rientra domani, no? Quindi per dire qual era la scuola, non c'erano altre parole semplici che indicavano, quindi la capacità descrittiva. Siamo entrati in una dimensione della manipolazione totale, dove la bugia diventa, come dire, la significanza evidentemente di un racconto che di volta in volta è quasi allucinante, se noi vediamo cosa trasmette la televisione, i dibattiti, che cosa succede, lo capiamo. Ecco, quindi il gruppo Informazione si è mosso su diversi livelli e siamo riusciti ad ottenere anche degli ottimi risultati. Io voglio ringraziare Antonella De Nino, che è stata un'assidua collaboratrice soprattutto e poi tutti quanti in verità insomma il gruppo è stato composito, ha lavorato con una volontà bisogna dire ammirevole. Nicoletta, abbiamo Adriano, adesso Andrea, Meluso, un po' tutti abbiamo partecipato nel descrivere, cercare di capire come la dimensione trasmutante della mengogna operasse e lo abbiamo fatto quindi per esempio con una serie di lavori che hanno portato anche ad interrogazioni parlamentari, no? Quindi il primo documento che è stato elaborato per ripristinare la verità sostanziale dei fatti che tra l'altro come dire è invocato dalla Costituzione, no? Ci sarebbe un obbligo da parte dei giornalisti perché l'articolo 3 è l'articolo della Costituzione sottolinea la verità sostanziale dei fatti come diritto del cittadino ad essere informato per quello che accade, non si può come dire appunto mentire, è un crimine come il medico che avvelena il paziente, no? Come dire, ecco. Quindi abbiamo fatto questo primo documento poi ci siamo portati nell'analisi dei dati quindi caso o necessità e versione manipolazione semantica quindi tutto quello che appunto è del dominio della trasmutazione della menzogna e altri lavori che poi sono leggibili sul sito e quindi ci siamo poi addentrati nella come dire appunto nella dinamica perversa da parte di questo potere come dire ottuso che non recepisce quello che i medici dicono prima si parlava di Ippocrate Org non recepisce ma oppone oppone un muro di gomma e quindi siamo entrati nella questione e qui la Cugnall ci è venuta in aiuto con un'interpellanza parlamentare sulle cure domiciliari e sulla disinformazione che anche lì il regime impone no e addirittura come dire cerca di vietare queste cure nella prosecuzione di una dinamica disinformativa e terrificante se ci pensiamo quanti morti si potevano evitare no se ne potevano evitare tanti quindi insomma è come dire è quella guerra oscura quella guerra liquida quella guerra simmetrica di cui Giulietto Chiesa ci parlava spesso no ci diceva che eravamo già in guerra cioè la guerra era in atto no probabilmente questa è una guerra no noi siamo perché appunto gli strumenti di disinformazione sono di livello bellico cioè quando si arriva a come dire alla propaganda pura no di una dimensione diversa dal reale e cioè siamo in uno stato di guerra no questo fatto ci fa pensare proprio a quello che è l'azione quello che avvenne qui no cioè un regno viene distrutto e si costruisce no una dimensione totalmente inventata no un popolo altamente produttivo come era la Campania no era un regno efficientissimo per certi diversi tutte le industrie che c'erano qui nel meridione non c'erano in altri luoghi d'Europa pensate solo all'industria marittima no o ad altre realtà quindi siamo in uno stato di guerra e Giulietto chiesa ce lo diceva quindi siamo in guerra adesso poi come ne usciremo questo dobbiamo lo studieremo lo capiremo assieme no quindi ecco quindi abbiamo lavorato su più fronti il gruppo è stato molto coeso e per esempio siamo riusciti anche ad addentrarci in domini diversi come appunto quando ci siamo addentrati nei frattali nei frattali e nei grandi come dire equilibri sempre nella ricerca di modelli diversi di modelli perché qui effettivamente stiamo lavorando sconcertati su quello che accade no perché tutti quanti capiamo è inutile ripeterlo è inutile dirlo qual è il livello di disinformazione di manipolazione e quindi un documento è stato dall'ordine del Leviatano perché appunto Giulietto parlava spesso del grande Leviatano di questo luogo dei poteri trasversi occulti che vanno abbiamo tante volte detto dal Bilderberg alla Trilatera ai servizi deviati insomma tutte realtà che operano agli occupanti militari che hanno fatto stragi tutti gli ordigni che sono esplosi in Italia stranamente avevano Tritolo che veniva dalla Nato quindi come per il caso Moro sappiamo che lì quel giorno c'erano tutti persino i russi gli inglesi i francesi quindi come dire lo stato di guerra in questo paese è stato permanente dalla fine della guerra in avanti come lo stato d'occupazione quindi in verità questi lanzichenecchi di cui ci parlava prima Giulietto questi lanzichenecchi sono dei traditori della patria degli altri traditori della patria questi ministri che sono dei pupazzi evidentemente come Maddalena poi ci ricorda e gran parte delle leggi fatte negli ultimi dieci governi e più sono tutti anticostituzionali quindi voglio dire che possiamo fare cioè il dato è terrificante se uno ci pensa quindi ci siamo addentrati diciamo lavorando come questa è la caratteristica che prima veniva sottolineata cioè la capacità e qui come dire la capacità di lavorare con un intenso impegno perché in un anno e mezzo diciamo che pochi giorni non ci siamo sentiti quasi tutte le settimane abbiamo discusso studiato cercato di capire discusso ci siamo arrovellati fino ad entrare appunto nelle analisi sia nella scienza che nell'ambiente dicevo dall'ordine del Leviatano alla coerenza della natura e degli esseri umani perché il problema oggi e questo è quello che poi riguarderà l'analisi di questa sera o di domani cioè come riportare ad una dimensione dell'ordine naturale delle cose è la dimensione dell'essere dell'essere ma diciamo del nostro popolo delle nostre identità varie nazionali voi sapete che come dire io tante volte ho sottolineato come dire qual è la differenza tra civiltà e barbarie no le civiltà lasciano vestigia i barbari lasciano macerie e lo vediamo lo stanno facendo di nuovo no cioè i barbari ci piombarono nel basso medioevo no e oggi siamo in un basso medioevo il basso medioevo è predazione totale cioè arriva il brutto perché barbaro e distrugge tira giù gli acquedotti costruisce come dire follia no saccheggio e poi se ne va quindi siamo in una nuova barbarie siamo in una nuova barbarie e la nostra civiltà invece è stata una civiltà di grandi come dire escursus se pensiamo a quello che abbiamo fatto no abbiamo unito popoli abbiamo unito culture abbiamo attraverso i trattati costruito la civiltà noi siamo la civiltà gli altri sono barbari restano barbari francesi inglesi americani sono barbari perché quando uno poi va a vedere sono barbari ecco perché fanno questo cioè manipolano la realtà inventano appunto la guerra perpetua quando noi capimmo che la guerra era uno strumento estremo valeva il trattato no le nostre repubbliche marinare Ulisse è semplici ricordi del famoso sabir no la lingua dei porti che era fatta da napoletano genovese veneziano con lingue un po' di arabo un po' di catalano un po' di sardo che come dire è servita nei secoli dal 1100 fino addirittura quasi alla fine dell'ottocento e ci sono trattati in lingua sabir che sono conservati nei musei marittimi olandesi inglesi nel mondo intero no quindi questo a significare la nostra capacità no di uomini della civiltà no che hanno fatto eh è finito ah vabbè allora adesso chiudo voglio dire ecco insomma ci siamo addentrati anche per questo a significare di come il gruppo ha lavorato quindi siamo entrati anche nei luoghi alchemici della natura delle cose no e cercando di riportare al centro appunto quest'ordine naturale delle cose no ecco e questo è come dire è stato un po' un documento perché questa è una materia che penso sia come dire l'obbligo attraverso il quale i lavori del centro dovranno passare ci dovremmo domani chiedere come riportare le cose ad una come dire ordine naturale dove al centro come ci ricordavano altri che sono intervenuti ritorni l'uomo e dove come diceva anche Simone come dire l'economia non può dettare l'agenda no delle umane cose no ma deve essere come dire la politica l'organizzazione sociale il luogo costrutto da millenni di tradizioni a decidere cosa è bene o cosa non lo è per le comunità che appartengono ad uno stato ad una nazione ecco quindi questo è un po' il lavoro che ha fatto il gruppo io ringrazio tutti e niente eccoci qua quindi siamo in guerra grazie